Onorevole Boltrini sul caso Cospi. Sì, c'è stato oggi il gran giurì della Camera, adesso ci saranno le valutazioni. Io penso che sia giusto andare fino in fondo perché quanto detto dall'onorevole Donzelli in aula è stato gravissimo. Allora bisogna anche mettere dei limiti a queste affermazioni così forvianti e anche questa manipolazione che viene fatta nelle aule di Parlamento. Quindi mi auguro che il gran giurì stabilisca cosa che noi abbiamo visto, i termini dei fatti e che si esprima con chiarezza perché altrimenti poi il rischio è che si continui in questa scia di aggressività, di degenerazione e di questo non abbiamo bisogno. Grazie mille, buona giornata.